Diario di un esorcista I demoni sono accecati Manuela è tormentata da spiriti maligni. Spesso nel cuore della notte i suoi familiari o i componenti del nostro gruppo di preghiera ricevano messaggi demoniaci minacciosi provocanti e umilianti che cercano di fiaccare i nostri sforzi. Alla sua famiglia i demoni hanno recentemente scritto sei esausto stanco di combattere finirà tutto presto è ora di lasciarsi andare sarà morta entro la fine del mese devi fermarti o ti farai male. All'esorcista i demoni hanno scritto è meglio che ti arrendi non serve smettila di pregare. A volte il numero di telefono da cui provengono i testi è elencato come linea telefonica di Manuela tuttavia sta dormendo quando i messaggi vengono inviati e non c'è traccia di essi sul suo telefono. Altre volte il numero telefonico d'invio è elencato come 666 13 666 e 666 00 666. Questo è solo un altro scherno demoniaco. Finora sono stati fatti molti progressi spirituali. Molti demoni sono stati cacciati anche se gli ultimi sono stati tenaci. Ho chiesto al diacono nella nostra ultima sessione di preghiera di leggere il prologo del Vangelo di Giovanni capitolo 1 dai versetti 1 al 14. Un testo potente usato negli esorcismi. Il diacono inizia a proclamare in principio era il verbo e il verbo era presso Dio. Quando ecco che sussultò ci fu una violenta reazione a Manuela. I demoni urlarono e ci dissero di smetterla. Quindi glielo abbiamo fatto leggere ancora e ancora. L'agonizzante contorta continuava. Cominciarono a chiedere pietà e promisero di dire qualsiasi cosa per farci smettere. Ma noi continuamo. La luce risplende nelle tenebre. Ma le tenebre non l'hanno vinta. Manuela ha poi detto di aver visto raggi di luce che uscivano dagli occhi del diacono. I raggi di luce splendevano sui demoni e li accecavano. Immediatamente il demonio in Manuela ha smesso di manifestarsi ed è tornata in sé con un sorriso di pace. I demoni non sono ancora del tutto scomparsi ma sono molto indeboliti. Manuela dice che i demoni sono ancora ciechi. Infatti il rito dell'esorcismo li avverte. Più ritardano il momento della partenza dal corpo della persona, cioè la liberazione, più pesante sarà la loro punizione al cospetto di Dio. Ho il sospetto che questi demoni siano stati accecati permanentemente come punizione di Dio per il loro comportamento malvagio. Il verbo si fece carne e stabilì la sua dimora in mezzo a noi. Con queste grandi parole contempliamo il mistero dell'incarnazione del verbo divino. I teologi ci dicono che fu proprio la notizia dell'incarnazione di Dio in Gesù a provocare la ribellione di Lucifero e dei suoi servi. In un esorcismo è pura tortura per loro sentirlo proclamare. Per i demoni e tutti coloro che rifiutano Dio la luce è accecante e li getta nelle tenebre. Per chi lo ama è trasfigurazione per la luce che risplende attraverso di noi.